Buonissimi lunedì 15 novembre 2021 il Windsor Park di Belfast è diventato il teatro dell'agguato perfetto, la trappola che non ti aspetti con Nord Irlanda e Irlanda del Nord Italia che deve decidere quale fra Italia e Svizzera tra la squadra che andrà direttamente ai campionari del mondo del Catarno 2022 è quella che invece si incasinerà non poco la vita con gli spareggi vi ricorderete che nel 2018 gli spareggi ci sono costati la qualificazione con Ventura in panchina tra l'altro con un allenatore con un destino stranissimo perché è sempre stato considerato è sempre stato un allenatore molto considerato, molto quotato, un allenatore che si diceva che faceva giocare bene le squadre eccetera ha avuto una carriera dignitosissima e purtroppo ha avuto il destino anche se ben pagato di entrare così nella storia del calcio italiano sarà ricordato sempre come quello che toppò clamorosamente nonostante tanti buoni giocatori l'accesso a una fase mondiale un po' mi dispiace perché tutto sommato penso che Ventura fosse un buon allenatore ma evidentemente non era un buon selezionatore e soprattutto non era un allenatore bravo a fare gruppo come per esempio El Lippi oppure Conte ma che Conte non si è gente di ferro li mette tutti quanti in riga probabilmente non aveva il polso adatto per fare il CT che vi pare facile ma non è facile e come sapete c'è tanta amarezza dopo l'occasione persa contro la Svizzera all'Olimpico in una gara che l'Italia avrebbe dovuto assolutamente vincere con secondo qualsiasi ragionamento di buon senso visto un avversario che tutto sommato non era niente di che pieno di tra l'altro di defezioni mancavano di giocatori molto importanti gli uomini di Jakin ma evidentemente come mi fa notare più di qualcuno questi ragazzi non si fermano mai giocano ogni due giorni è il gruppo che quest'estate non si è riposato ma anche gli europei tra l'altro arrivando fino alla finale fino all'ultima partita poi hanno ricominciato dopo una brevissima vacanza il campionato le coppe questi ragazzi sono logori bisogna guardare in faccia la realtà è una cosa che purtroppo Mancini non ha capito mi dispiace dirlo perché lo consiglio un ottimo allenatore ma lui qualche errore lo commette come tutti quanti per esempio agli europei a un certo punto si è intestardito e gli è andata bene con Immobile lo sapete tutti che vedevamo tutti che era molto fuori dal gioco fino all'ultima partita si è intestardito ma è andata bene perché l'Italia non dimentichiamoci che ha vinto un europeo facendo praticamente un miracolo ma superando un turno ai tempi supplementari con l'Austria qualificandosi alla finale contro la Spagna vincendo ai calci di rigore contro la Spagna appunto dopo una partita soffertissima e vincendo infine anche con l'Inghilterra in finale ai calci di rigore quindi siamo stati gratificati al massimo dal fatto di avere una grande rifleta un grandissimo portiere ma è stato ripeto un miracolo è stato un miracolo sportivo perché la squadra complessivamente al di là di Donnarumma non è che ci avesse questi fenomeni poi in campo ecco diciamo la verità il gruppo però ha funzionato alla menaviglia e siamo riusciti a conseguire un risultato molto molto importante dopo però c'era bisogno di tirare il fiato di far tirare il fiato ad alcuni giocatori e questo si è visto benissimo per esempio proprio contro la Svizzera quando è entrato in campo Tonali che è un giocatore che aveva un altro passo ci ha messo 30 secondi per prendere in pugno il centrocampo azzurro se avete occasione di rivedervi la partita l'ingresso di Tonali è impressionante nel primo minuto tocca tre palloni tutti importanti fa un'apertura stupenda per Berardi sulla destra con grande personalità sembra un giocatore che ha un altro passo quindi bisognava mettere forze fresche come sapete in questi giorni solo brutte notizie per il CT che ha avuto tutta una serie di defezioni tra le quali anche Immobile che molto probabilmente con la Svizzera sarebbe stato molto utile nelle ultime ore defezioni di Calabria addirittura del portiere Siru di Bastoni e di Biraghi quindi sono tanti giocatori non decisivi ma qualcuno forse avrebbe anche giocato come Calabria perché di Lorenzo è un po' stanco dicevo l'agguato perfetto la formazione irlandese del Nord allenata dal cinquantenne inglese Baraklauga che è subentrato l'anno scorso a O'Neill fa del suo stadio il Windsor Pack una specie di fortino e in queste gare di qualificazione ai mondiali non solo non ha mai perso in casa ma non ha mai subito gol che questo fatto per noi rischia di essere grave perché come sapete Italia e Svitter hanno gli stessi punti 15 in classifica e quindi sarà la differenza reti a decidere tutto la Svitter la gioca in casa con la Bulgaria che è una squadra molto demotivata che non ha nulla da chiedere mentre gli irlandesi spinti dal pubblico amico fra le mura amiche di Belfast è sempre un osso molto duro e c'è tra l'altro un precedente inquietante nel 58 dovete sapere che perdendo per 2-1 proprio in questo stadio l'Italia mancò gravosamente la qualificazione ai mondiali nell'altra occasione unica occasione quella del 2018 in cui non ci siamo qualificati per una fase finale un precedente che definirei abbastanza inquietante tatticamente questa squadra che è all'andata e a passa anche molto vulnerabile l'abbiamo battuta 2-0 con le reti di Berardi e Immobile al 25 marzo ma tatticamente ha proprio le caratteristiche della squadra che prende pochi gol perché gioca con un 3-5-2 con Picoffare l'imposta un portiere tra l'altro di serie C pensate che all'andata se vi ricordate fece una bella papera sul tiro di Immobile sul secondo gol vedete quanto sarebbe stato importante per esempio in quelle partite fare qualche gol in più in queste partite che disponevamo dell'avversario invece nella ripresa abbiamo avuto un vistoso calo se vi ricordate difesa a 3 con McNair Evans e Kachkart i 5 in mediana sono Dallas McCann Davis Seville e Ferguson e le due punte sono Magennis e Washington niente di che ma è una squadra che fa molta densità a centrocampo una squadra che gioca molto corta sull'agonismo una squadra che non solo non ti fa giocare ma ti fa giocare anche male perché cerca naturalmente avendo limiti tecnici molto importanti giocano molto sull'episodio in sostanza ti sporcano i passaggi fanno falli sono diciamo roggi calcisticamente ma sono squadre che poi non è facile andare a stanare perché questi si metteranno tutti dietro cercando di sfruttare appunto l'episodio in una partita poi tra l'altro nella quale non hanno nulla di che da guadagnare se non il fatto di poter arrivare terzi nel girone questa cosa qui ma giocano praticamente per l'orgoglio ma con la mente libera non hanno niente da perdere l'Italia invece ha solo da perdere in questa partita che partita sarà? sarà una partita nella quale ripeto questa squadra Lillanda nessun gol subito fino alla qualificazione mondiale mai sconfitti in casa in questo gruppo C l'Italia si dovrebbe presentare con Tonali al posto di Locatelli e Berardi al posto di Belotti queste sono le notizie dell'ultima ora allora noi avremo Donnarumma in porta Siricus è infortunato con Donnarumma pattono gli altri potieri che erano quattro che hanno se ripottati che sono Meret del Napoli e Cragno del Cagliari che tra l'altro in questo momento non è molto in forma capitolo Donnarumma Donnarumma è un grandissimo portiere soprattutto un portiere che ha un fisico eccezionale lo sappiamo tutti però Donnarumma non è il Donnarumma straordinario protagonista di questi europei perché Donnarumma ha detto Donnarumma dai tifosi del Milan andando a Parigi si è un po' incasinato la vita guadagna molto di più ma gioca anche di meno e questo questo ruolo di portiere è un ruolo nel quale giocare con continuità come sapete è importantissimo perché il portiere vive di intuizioni di attimi deve avere una reattività fuori dall'ordinario quindi per arrugginirsi perdere un po' capito il ritmo della partita lui stesso dice che sta soffrendo questo dualismo con Keylor Navas e allora con la Spagna in semifinale di National League scusate vi ricorderete la palla che è abbastanza semplice che gli sfugge e va contro il palo contro il belgio il gol del belgio questo ragazzo lanciato a rete che gli segna facendogli passare la palla sotto le gambe ve lo ricordate ieri sul gol della Svizzera quando era l'altro ieri il tiro centrale di Wittmer è un tiro forte ma è abbastanza centrale Donnarumma si tuffa non con la giusta reattività secondo me tocca la palla con la mano di richiamo ma non riesce è un tiro ripeto forte ma è molto se ve lo vedete proprio dall'inquadratura che inquadra la porta non è affatto angolato il miglior Donnarumma quella palla lì la alza sulla traversa io questo ve lo dico e soprattutto nel finale al 92esimo con una cacciata che ha fatto che ricorderete con il salvataggio di Bonucci sulla linea di porta ha rischiato veramente di impiccarci la qualificazione mondiale quella è una palla ma al 92esimo la devi sparare in tribuna subito senza starci a pensare un secondo in un momento del genere non devi giocare sempre la palla c'è un momento che se all'ultimo minuto di una partita decidiva per quelli di vivere mondiali devi sparacchiare in tribuna non si è sempre fatto abbiamo rischiato andare via a rivedere l'azione di incasinarci la qualificazione mondiale su quella palla quindi questi segnali che arrivano da Donnarumma non sono per niente positivi perché sappiamo tutti che Donnarumma è un grandissimo portiere ma ricorderete benissimo anche nel Milan qualche papera clamorosa anche l'ha fatta e sono papere che sono papere di mancanza di concentrazione proprio non sono errori tecnici per cui mi auguro che Donnarumma sappia farci vedere domani sera alle 20.45 naturalmente su Rai 1 tutto quello che è tutto il suo valore le sue capacità tecniche perché ripeto non è nelle migliori condizioni non è nelle migliori condizioni neanche Giovanni Di Lorenzo il tettino destro del Napoli che primo tempo da dimenticare contro la Svistra con Vargas c'è anche Okafor che gli hanno dato un fastidio enorme su quella fascia poi cambia tutto col gol perché col gol che è stato importantissimo tra l'altro su questo cross di Insigne su questa punizione battuta di Insigne anticipa il portiere Somm e mette in porta una palla importantissima diciamo che noi gli è valso mezzo voto in più abbiamo cominciato a guardarlo con occhio diverso il ragazzo si è anche un po' gaciato e nel secondo tempo è andato molto meglio molto meglio perché primo tempo Di Lorenzo a fine primo tempo è andato a sostituire io lo dico chiaramente però Calabria si è infortunato e è entrato nel finale con la Svizzera e Calabria molto probabilmente Romani avrebbe giocato dal primo minuto tra l'altro giocatore dato in ottime condizioni fisiche ma purtroppo si è infortunato in ottimo stato di forma voglio dire si è infortunato quindi giocherà ancora Di Lorenzo e va bene a sinistra giocherà ancora Emerson Palmieri perché tra l'altro si è infortunato anche Bilaghi e quindi toccherà Palmieri al centro Bonucci Acerbi perché Bastoni anche lui si è infortunato quindi vedete quanti problemi ci sono a centro campo noi giocheremo con sicuramente con Tonali al posto di Locatelli Giorginio Giorginio e Barella questo sarà anche se Barella non mi appasso assolutamente in buone condizioni fisiche però è un giocatore che quantitativamente dà sempre il massimo delle sue possibilità e contro Lillanda in effetti ci sta perché è una partita proprio fisica quella domani scordatevi il bel gioco e ve lo dico subito e le tre punte saranno a questo punto Berardi che andano molto bene con la Svizzera a destra ma andano bene anche con il Belgio e il Nation League Insigne Falso 9 a questo punto e Chiesa a meno che Mancini considerando che comunque la partita abbiano segnato tanti gol ma ragazzi 1-0 non ci basta ragazzi ve lo dico subito perché domani la Svizzera con la Bulgaria ne fa tre io ve lo dico subito la Bulgaria è una squadra scarsa quest'anno deve fare almeno due gol senza subirne ovviamente se no Mancini si deve prendere responsabilità di dire senti io questa partita devo fare gol gioco Belotti con la Svizzera non mi è piaciuto per niente un giocatore che mi sembra lontano parente dal Belotti che conoscevo io del Torino un giocatore che era molto incisivo oggi lo vedo forse sembra quasi che stia cambiando ruolo che stia diventando quasi un centrocampista aggiunto non sembra più neanche un centravanti lo vedo a volte correre anche male mi sembra quasi che faccia fatica che abbia dei dolori da qualche parte non so come quando uno diciamo ha mal di schiena per corre ma corre un po' tutto stortignacco non lo so non capisco immobile naturalmente infortunato io personalmente non me la sento che a niente mi risulta che sia infortunato però non vorrei dire una sciocchezza non me la sento di pensare che Mancini rischierà Raspadori però a sto punto per me per come vedo io il calcio con l'Irlanda dico la verità ci starebbe anche Scamacca Scamacca Scuola Roma Sassuolo giocatore ex Genoa molto alto molto prestante però nel giro dell'anno e 21 ma naturalmente non ha esperienza quindi dal punto di vista dell'esperienza non si può scaricare sulle spalle di un ragazzo una responsabilità così grande come quella di andare a Belfast in questo campo come ho detto così ostico tradizionalmente ostico a caricarlo troppo di responsabilità si rischia anche di bruciare il ragazzo insomma però tecnicamente tatticamente Scamacca ci starebbe perché a noi purtroppo abbiamo visto anche agli europei ci manca un centravanti di peso di peso immobile non è un centravanti di peso immobile è un centravanti di movimento cioè un centravanti che ha bisogno di essere lanciato negli spazi come fanno molto bene tra l'altro nella Lazio e in quel lanciato negli spazi è devastante però deve essere lanciato negli spazi nel 4-3-3-3 di Mancini non c'è questa giocata nel 4-3-3 di Mancini c'è questo destra-finistra palla in orizzontale e poi si cerca di smarcare un giocatore ma non in verticale però anche buttando palla in mezzo che non piglia però nessuno perché non abbiamo centravanti questo è un po' l'equivoco ormai ne abbiamo viste tante di partire dell'Italia nell'ultimo anno arriviamo bene diciamo al limite sulla fascia e poi quando si tratta però dell'ultimo passaggio e perché non abbiamo il giocatore da ultimo passaggio perché Giorginio non ha queste caratteristiche è un regista basso un uomo d'ordine un metronomo ma non è quello che ha il passaggio filtrante purtroppo e poi non c'è proprio il giocatore che è in grado di raccogliere anche dei cross non c'è questo centravanti purtroppo è così Belotti un tempo le prendeva queste palle di testa adesso con l'Italia non è mandato benissimo Belotti non lo so è in involuzione questo ragazzo comunque ripeto l'Illanda del Nord vista all'andata è una squadra debole che andava già all'andata seppellita di gol ma ricordatevi che l'Illanda del Nord in casa è un'altra squadra che gioca proprio con un altro piglio speriamo che sia una partita dove insomma le cose si mettano subito bene che si possa sbloccare anche presto ma se ci trascineremo sullo 0-0 primo tempo che finisce 0-0 così diventerà magari se arrivano notizie negative dalla Svizzera eccetera diventerà proprio una trappolona questa partita ricordatevi le mie parole diventerà una trappolona comunque speriamo bene perché ragazzi dopo essere stati eliminati nel 2018 sarebbe inaccettabile non arrivare ai mondiali in casa però io un'altra cosa la devo dire perché io sono una persona obiettiva per quanto sono molto tifoso eccetera vi ricorderete che mi segue che avevo previsto anche la vittoria agli europei di questa squadra eccetera cioè noi abbiamo una squadra che in ottica mondiale va migliorata cioè abbiamo delle difficoltà abbiamo delle difficoltà per esempio Emerson Palmieri è un giocatore che io lo ricordo molto bene avendolo avuto nella Roma avendolo seguito è un grosso giocatore se è un po' diciamo seduto un po' rilasciato su un certo rendimento potrebbe fare molto di più quindi poi c'è il problema dei centrali di difesa speriamo che Bonucci e Chiellini a questo punto non lo so che arriverà ai mondiali come ci arriverà ma dietro Bonucci e Chiellini c'è un abisso c'è una categoria di differenza cioè Bastoni Acerbi Gianluca Mancini sono giocatori di un'altra categoria rispetto a questi due quindi speriamo bene perché Donnarumma sono certo che ai mondiali arriveranno in ottime condizioni ma lo auguro il centrocampo è un buon centrocampo l'attacco come sapete abbiamo questo problema assolutamente da risolvere altrimenti giocheremo ancora con Immobile ma Immobile va costruita una squadra in grado di servirlo nel modo giusto perché sennò serve a poco anche Immobile ragazzi guardate che Immobile nelle ultime partite quelle importanti non ha letteralmente strusciato una palla ed infatti è stato sempre sostituito nel secondo tempo da Mancini non prendeva una palla ma non per colpa sua non gli arrivava una palla e questo non arrivava una palla al centroavanti in un mondiale è qualcosa che non ci possiamo assolutamente permettere quindi speriamo che vada bene domani sera e non posso non concludere questo video con un ricordo molto sentito molto sincero di un grandissimo giornalista personaggio televisivo amatissimo Giampiero Galeazzi che all'età di 75 anni purtroppo soffrirà da tempo di una grave forma di diabete ci ha lasciati gravissima perdita non solo per il giornalismo italiano ma per lo sport italiano come sapete campione italiano di canottaggio nel 68 grande appassionato esperto di canottaggio un giornalista molto particolare perché lui riusciva ad abbinare una grande preparazione delle discipline di cui faceva la cronaca ha un talento giornalistico innato che non ti può dare nessuno ce l'hai o non ce l'hai tra l'altro l'avevato in economia Galeazzi ha lavorato anche un periodo nell'ufficio pubblicità inizialmente della Fiat a Torino pensate riusciva però a coniugare queste capacità con una simpatia umana debordante trascinante era una persona amatissima Galeazzi al di là del giornalismo è proprio uno che tutti si ricordano di lui Panatta per esempio diceva noi stavamo sempre a scherzare solo bei ricordi sempre divertimento era una persona proprio divertente perché dico che aveva un talento innato per esempio nel 2000 c'è la famosa Perugia Juventus la Lazio gioca all'Olimpico in questo momento non mi ricordo con quale squadra sono tutti convinti che la Juve vincerà lo scudetto è una formalità in teoria la partita di Perugia che invece la partita famosa dell'acquazzone a sorpresa vince clamorosamente la Lazio nell'ultima giornata Galeazzi quel giorno sta facendo la telecronaca di tennis allo stadio italico al foro italico lì vicino all'Olimpico di una partita dall'altro non molto importante sta facendo la telecronaca a un certo punto dalla radio cominciano ad arrivare le notizie di quello che sta succedendo e negli ultimi minuti sono tutti convinti che la Juve riuscirà diciamo a risolvere la pratica invece non ci riesce Galeazzi ha l'intuizione capisce che potrebbe succedere qualcosa di storico ed incredibile cioè che la Lazio all'ultima di campionato scavalca la Juventus in modo a dir poco anche se non mi ricordo il risultato però di quella partita cosa fa abbandona la telecronaca la telecronaca dell'incontro di tennis piglia e va allo stadio olimpico gli ultimi due giochi della partita sono muti non c'è commento va all'olimpico perché sa che sta sente nell'aria che sta per succedere qualcosa di incredibile e arriva lì proprio mentre la Lazio sta vincendo lo scudetto e quindi fa il servizio per la Rai dal campo della cronaca di quello che succede la festa eccetera eccetera questo vuol dire avere talento avere l'intuito avere proprio il dono di fare bene qualcosa perché hai quella capacità di intuire proprio di capire dove va il vento dove devi andare dove e quindi lui molla la postazione molla la telecronaca senza dare nessuna spiegazione i telespettatori avevano pensato che il collegamento era saltato e va allo stadio olimpico a firmare questo pezzo che diventa il pezzo più importante della giornata sportiva e quindi questo penso sia un bel ricordo di Galeacci perché io tra l'altro lo amavo moltissimo come commentatore di tennis secondo me era bravissimo aveva proprio un timbro di voce che mi piaceva era un uomo ripeto di un'umanità debordante poi è passato chiaramente alla storia come telecronista del canottaggio con i fratelli a bagnale ma non solo anche gli altri due erano bonomie come si chiamava quell'altro rossi rossi e bonomie telecroniche delle vittorie della bagnale sono passate veramente alla storia quella è la disciplina che lui conosceva meglio avendola praticata ad altissimo livello ma poi anche nel calcio era un noto di foto della Lazio era molto preparato e penso che abbia interpretato veramente bene il suo ruolo giornalisti come Carosio Martellini Ciotti Galeacci in questo momento in giro non ci sono più buona giornata